Ognuno di noi è unico, è insostituibile nella storia. Così ci guarda Dio, così ci sente Dio. Quanto è importante ricordare questo. Troppe volte, guardando la nostra vita, vediamo solo quello che ci manca. Ci lamentiamo di quello che ci manca. Allora cediamo la tentazione del magari. Magari avessi quel lavoro, magari avessi quella cassa, magari avessi soldi e successo, magari non avessi quel problema, magari avessi persone migliori attorno a me. Ma l'illusione del magari ci impedisce di vedere il bene e ci fa dimenticare i talenti che abbiamo. Tu non hai quello ma hai questo, il magari fa che dimentichiamo questo. Grazie. 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 Grazie.